La Commissione speciale istituita all'Assemblea regionale siciliana ha già espresso positivamente il primo parere alla proposta di legge per il taglio dei vitalizi e delle pensioni di irreversibilità. Il passaggio successivo sarà il voto in aula. Il testo potrebbe anche essere recepito dall'Ufficio di Presidenza, preseduto da Gianfranco Miccichè, ma l'accordo concordato pretende il passaggio parlamentare in aula. La linea politica voluta tra i democratici e Forza Italia prevede un taglio lineare del 9% per tutti i beneficiari di vitalizio ed assegno di irreversibilità. La riduzione di vitalizia avrà una durata di 5 anni. La scorsa settimana a Palazzo dei Normanni, ricordiamovi, era stato uno scontro durissimo tra il Presidente della Regione Nello Musumece e del Presidente dell'Ars Gianfranco Miccichè. Quest'ultimo accusato di demagogia il governatore affermando «Sono pronto a proporre il taglio definitivo dei vitalizi, così vediamo chi fa più demagogia». Musumece aveva proposto un taglio maggiore recependo semplicemente il testo nazionale che prevede tagli fino al 40%, ma l'emendamento proposto dal deputato di Devera Bellissima Aricò non è passato. Per il Movimento 5 Stelle i deputati grillini dichiarano «La norma è un'enorme presa in giro ed infatti oltre ad essere gli ultimi nel Paese ad attuare il taglio siamo anche peggiori, visto che il taglio previsto è ridicolo di appena il 9% e neanche definitivo e sarà operativo solo per i 5 anni, praticamente una presa per i fondelli per i siciliani». Grazie a tutti.